Io spero che sì, che sarà un congresso molto enricchessore e ispiratore. Abre la iglesia, che sia una iglesia in salida e che annunciare il Evangelio e che la gente conosca a Gesù Cristo. Il mio sogno di un mondo migliore, annunciare il Reino a le nazioni, sarà il Espirito che ci guiarà. Nos fa sentir che lavoriamo in conjunto, come iglesia in Spagna, che non siamo soli, che a ogni diocesi apportiamo la nostra realtà, ma stiamo lavorando tutti, per fare una costruzione del Reino tra tutti. Una volta che arriviamo alla nostra propria diocesi, possiamo continuare dando passi. Grazie a tutti.